Cioè, se ci guarda un bambino, che cosa gli devi dire? Ma queste sono cose per grande, non per bambini. Questo è il servizio di quando sei sposata? Sì, sì, sì. Ciao amici YouTube, benvenuti tutti in questo video. Allora, questo video lo faremo in compagnia di mia zia Giovanna. Zia Giovanna, quanti anni hai? Io ne ho 70, però me ne sento 30. E in questo video assaggeremo delle bevande americane con mia zia. Allora, abbiamo la Coca-Cola e la ciliegia, la Fanta alla fragola, la Fanta all'ananas e la Fanta ai frutti di bosco. In più faremo assaggiare la 7-Up e confronteremo queste bevande con la Sprite e la Coca-Cola. Allora, per questo video mia zia ha pensato di usare i bicchieri del servizio buono. E non si può togliere. Se esiste ancora la Bohemia, la stiamo sponsorizzando noi. Esatto. Bohemia, tutto. Bohemia. 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 Allora, iniziamo con le bevande. La prima bevanda che facciamo provare è la 7-Up. L'hai provata? No, i miei figli sì, meglio no. Quelli sono ubriaconi. Vero, non ci credi? Vero? Vero, non ci credi. Senti, cosa è che fa? Divino. Divino nel senso del vino? No, divino l'odore. Ah, buono. No, divino. È qualcosa... Basta. E ne basta. Ora io nel metri che lui non c'è, io bevo. Amici, io bevo. Brinda a tutti voi. Buono, buono. E non l'ho fatto niente. Non l'ho fatto niente. Allora, zia... Vai, fatela bevere tu. No, te la devi bere tu. Eh, tutto. No, un po' la devi assaggiare e devi dire come ti sembra. Ma buono. Ma buono. Parlamelo. A me piace. Così piace. Buonissimo. Allora, a mia zia piace. A mia zia piace. Lascia. E io ve ne parla una che beve. Bevo molto. Che fa capire? Che faccio capire? Se io bevo che ci posso... No, 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 è tantana qua. Bevo, c'è quando fumo pure, lo spinello. Ma che tu non bevi? Ma non è che mi piace tanto si truona. Ah, forse. Niente, ora ti imparo pure a fumare, non ti preoccupare. Grazie, grazie. Così, così. Ci siamo quasi. Ora chiamo all'amico mio e ci dico un po' di pure per te. Bene, ciao. Allora, adesso proviamo la Fanta Allanas. Che scoppio. Che scoppio. Che scoppio Che scoppio Che scoppio Che scoppio No, questa è bruttina Non piace Questa è bruttina Ma fa veramente schifo E' vero Ah, veramente? No, 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 questa... Io ti ho detto che bevo cose più forti. Queste per me... Quando siamo nei locali lo paghiamo, lo fumiamo... Cioè, tutti i giorni immagino che vai nei locali, vero? Sì. Ma... Così, così. Così. Così, così. Non tanto... No, non mi convince che l'hai in che, in effetti. Sì, sì. E che faccio? Lo dobbiamo bere? Eh... E che faccio? Bevito, lo bevito. Io di prima mattina mi piaco, perciò per me questo non è niente. Per me questa è acqua dolce. E allora? Che mi dici? Andiamo avanti con le rapporto. Ora direi di fare però un confronto. La mattina devo uscire. Di pomeriggio... Ancora. Di pomeriggio devo uscire pure. Certo. Perché vado a cercare... Adesso confronteremo una Coca Cola normale con la Coca Cola alla ciliegia per farvi vedere come sono entrambe. Aspetta. In quei posti... Bene zia, va bene. Alla ciliegia. Vedi che miscuglio. Mamma mia. E questa qua è la Pepsi. Questa qua invece è la Coca Cola alla ciliegia. Però a quanto pare sembrano identiche. Questa è la Coca Cola alla ciliegia? Sì. Insomma. Ma sa di Coca Cola o sa di ciliegia? E c'è un misto. Un misto veramente. Dai che la ciliegia si sente tanto comunque. È molto forte. Solo che forse il dolce proprio della ciliegia la rende un po' schifosa. Appunto. Non vorrei dire. Appunto. Mi stai facendo bene ora di prima mattina tutte queste. Sì. Zia tu l'hai bevuta veramente? No. Di vino. Così si digerisce. Quello. Assalga, vedi come. Ok. Questa sì. Ma che sapore ha descrivito? No. Un sapore di... Di spray. Un sapore di limone. Qualcosa così. Si. Ma quindi buona? Si. E tu perché fino ad ora non l'hai comprata? Si. Perché però non l'ho comprata perché io compro cose più... Più forti. Ad esempio il vino. Tutte queste cose. Vino forte. Pure. Sto scoprendo una tua vita che non conoscevo. Lo so. Lo so già. Non è che posso dire a tutti. Giusto. Io ti sto facendo una confidenza. Vedi di non lo dire a nessuno. No no assolutamente. Se tu vuoi più frutta mi hanno comprato. Si certo. Amica siamo su Youtube. Secondo me ci arrestano dopo questo video. No. Non ti preoccupare. Non arrestano più a nessuno. Proviamo la Fanta ai frutti di bosco. Mamma mia che buona. Buona. E' blu. E' blu. Però te l'ho bevito. Assaggialo. Buona. 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 Ma veramente a me non è che piace tanto. Ha un sapore un po' costegnoso secondo me. Le hanno fatte troppo dolci tutte queste Fanta. Si. Cioè a parer mio non va bene per questo. Perché le hanno esagerato con farle dolci. Ma pensi che tu dovevi prendere quelle senza zucchero. Non credo che le fanno. Perché comunque è molto difficile trovare questo tipo di lattine. Va bene il video mi sa che è finito. Ok. Grazie di aver visto questo video fino alla fine. Ovviamente mia zia poco fa stava scherzando. Non mi preoccupate non si droga. E' vero. E' vero. Ditta che poi ci arrestano. E' vero. Ditta che poi ci arrestano. Ti dico che è vero. Va bene. Quando ho detto della droga non è vero. Non è vero niente. Allora se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Iscrivetevi. A tutti. Ecco. E fate conoscere il video. E a tutti i miei parenti. Condividetelo. Condividetelo. Mi raccomando. Che cosa non vi siete iscritti al canale. Non ci sono iscritti al canale. Iscrivetevi. 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 Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Seguite il canale. Si segue il canale. Mi raccomando. Perché se loro seguono il canale ricevete altri video nostri. Certo. Certo. Giusto. Vi raccomando. Seguite il canale. Sì.